Il ministro degli esteri, reputo più affidabile Giorgia Meloni. Conte rifiuta il corteggiamento del Cavaliere, apprezzo il cambio di rotta ma non sarà lui il candidato dell'M5S. Io in questo momento temo molto di più che nel centrodestra ci sia una profonda spaccatura sul Quirinale, soprattutto ad opera di Matteo Salvini che non so quanto possa essere affidabile. Di certo, io reputo più affidabile Giorgia Meloni. Al ministro Luigi Di Maio risponde, sullo stesso palco, il collega di governo, il leghista Giancarlo Giorgetti. Questo è il momento del senso di responsabilità, meno dichiarazioni e più riflessioni. Mancano pochi minuti alla conclusione del primo dibattito di Atreiu 2021, la festa dell'identità della destra, organizzata da Fratelli d'Italia. In piazza Risorgimento, a poche centinaia di metri dalla cupola di San Pietro, sotto un tendone gremito di dirigenti di partito e sostenitori, si parla di lavoro e futuro. Sul palco i ministri parlottano tra loro per tutto il tempo. Staranno fissando la prossima pizza da Michele, scherza o melognano. Al loro fianco ci sono anche Francesco Lollobrigida, capogruppo di EFDI, l'Azzurro Antonio Tajani, la presidente del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro Marina Calderone e il capo dell'Istat Giancarlo Blangiardo, Modera il direttore del Messaggero, Massimo Martinelli. La padrona di casa Giorgia Meloni ascolta in piedi. Ed è proprio quando tutto sta avvolgendo al termine che si inizia a parlare di Quirinale. Di Maio ha il più diretto. In questo momento temo molto di più che nel centro-destra ci sia una profonda spaccatura sul colle, soprattutto ad opera di Matteo Salvini. Avere a cuore la nostra patria significa eleggere un presidente della Repubblica per l'interesse della nostra nazione, non per giochi su se andare a votare nel 2022 o 2023. Molti in sala sorridono. Giorgetti invece sembra provare imbarazzo. Anche perché di lì a qualche secondo arriva la domanda, Ministro, è più affidabile Meloni o Salvini? Il numero due del carroccio si difende, direttore, questa non era prevista. Il numero due del carroccio si difende, direttore, questa non era prevista.